ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti su ecco qui il nostro kyle che è pronta ad aprire le bustine dei trolls world tour insieme a noi a me e anita abbiamo qui tre pacchetti da aprire io questi pacchetti non avevo visto prima ma costano un euro a pacchetto costano tantissimo la tops ha fatto questi pacchetti molto molto cari è vero che ci sono c'è anche la garde però diciamo che secondo me la giustificazione della card non giustifica il prezzo della bustina singola comunque siamo pronti a spacchettare queste altre bustine perché a me piace molto questa collezione anche se non abbiamo ancora raggiunto i 100 la il 100 like sul video scorso quello dello star pack di questa collezione anche se il video sta andando molto molto bene che stiamo momentaneamente già sui 800 visual quindi va benissimo allora io direi iniziamo a spacchettare vai anita spacchetta il primo pacchetto anzi gail spacchetta il primo pacchetto ti do la mano io ecco qua allora le tiene gail ok questa è la card con la figurina che si stacca perché come abbiamo visto un'altra volta questa è la card ma qui c'è prima la figurina che si si leva con il numeretto e poi sotto c'è la card la card con cui c'è anche un gioco da fare che poi vedremo più avanti quando avremo il numero giusto di di card intanto anita ha trovato questa bellissima figurina fasi tutta bella stoffata intorno di poppy poi abbiamo cooper e questo è gioco che ho scritto il primo e slime prince eccolo qua e poi mister come si chiama questo mister ok andiamo con un altro pacchetto paianita spacchetta anzi gail vai spacchetta gail di fare attenzione perché c'è la card e rischi di strapparla questa è la parte della copertina ha trovato gail la card con la figurina di gail con il piccolo gail non so se avete visto il film noi l'abbiamo visto in streaming perché è uscito in streaming questo film che non si può andare al cinema ok ok ultimo pacchetto che c'è la cattiva attenzione quando la strappi che c'è la card secondo me ti conviene aprirla da qui anita guarda da qui così ok vai facci vedere cosa abbiamo trovato qui ok ok poi è vero questa è quella l'ex li l'ex li ok questa scritta no perfetto questa ce l'abbiamo questa ce l'abbiamo è bellissimo questo questo è il progetto di questa canzone ragazzi voglio controllare una cosa noi abbiamo le card qui ne abbiamo trovate tre l'altra volta con lo start pack che sono queste adesso anita mi dice questa è doppione adesso voglio vedere se corrisponde a una di queste card perché posso vedere io vedi un po' eh sì no no anita non lo devi togliere tutta eh sì corrisponde proprio a questa card qui quindi questa praticamente il numero che troviamo davanti se ce l'abbiamo doppione non c'è bisogno di levare la figurina perché corrisponde la card sotto questa è una cosa importante da capire dai vediamo questa in queste card vediamo questa ok a posto ci vediamo nel prossimo video che faremo il cielo mi manca ecco la guy ciao a tutti